Per il prossimo anno andranno tutti quelli che sono un po' i colori naturali, si cerca di il bianco, il panna, comunque non andrà il colore molto acceso ma si tenderà sempre sul naturale. Il Prima del Sì è sinonimo di serietà, professionalità perché la nostra azienda è un'azienda che esiste dal 1971 quindi con 45 anni di esperienza forse abbiamo lasciato, abbiamo seminato qualcosa quindi i nostri clienti sono più che soddisfatti dei nostri servizi e tornano sempre a trovarci anche dopo il matrimonio. Emozionati con Emozionando.